Buon mercoledì e ben ritrovati con una nuova puntata di Oroscopo Sicilia. Ariete. I momenti difficili non arrivano a caso. A volte servono per farti apprezzare le persone vere che ti circondano e per aiutarti a crescere. Superando le sfide scoprirai chi è davvero importante nella tua vita e potrai rafforzare i legami più autentici, eliminando le persone che nella tua vita erano solo di passaggio per approfittare dei tuoi momenti positivi. Toro. È una di quelle giornate in cui vorresti urlare tutte le tue emozioni, ma non ci riesci. Ricordati, è importante imparare a lasciare andare i rancori per il tuo stesso bene, altrimenti ti tormenteranno fin quando non deciderai di affrontarli. Prenditi un momento per respirare profondamente e lentamente e ripeti che tutto andrà bene. Gemelli. Non aver paura di agire senza spiegazioni logiche. Segui il tuo istinto, fai ciò che ti rende felice e che ti fa sentire vivo. Le tue scelte non devono per forza avere senso per gli altri. È la tua vita e sei libero di viverla come meglio credi. Non sentirti giudicato o sbagliato rispetto agli altri. Scegli per te stesso e per ciò che desideri davvero fare. Cancro. Ricorda che ogni evento accade per una ragione, anche quando si tratta di eventi negativi. Quando qualcosa va come desideri è perché l'universo ti sta sorridendo. Quando invece le cose non vanno come previsto, sappi che l'universo ti sta proteggendo da qualcosa di più grande. Abbi fiducia nel piano degli astri. Leone. Sarà una giornata all'insegna di entusiasmanti novità. Nuove persone da conoscere, nuove opportunità da cogliere e un nuovo modo di vedere te stesso. Non sottovalutare il tuo potenziale. Dentro di te c'è una forza immensa che aspetta solo di essere esprigionata in ogni sua forma. Vergine. Anche le esperienze più difficili possono insegnarti qualcosa di prezioso. Non rimuovere dalla tua mente le sfide che hai dovuto affrontare, ma utilizzale come opportunità per crescere. Ringrazia le persone che ti sono state vicine nei momenti bui e riscopri la forza interiore che ti ha permesso di superare ogni ostacolo. Bilancia. Preparati a ricevere sorprese inaspettate e a tuffarti in nuove avventure. La vita è in servo per te qualcosa di speciale, qualcosa che ti riempirà di gioia e ti stupirà. Non temere il cambiamento. Apri il tuo cuore a nuove esperienze e lasciati guidare dall'intuito. Potresti scoprire talenti nascosti o realizzare sogni che pensavi impossibili. Scorpione. Presta attenzione ai segnali che l'universo ti sta inviando in questo periodo. potresti ricevere messaggi attraverso sogni o casualità. Non sottovalutare questi indizi. Potrebbero guidarti verso nuove opportunità o aiutarti a prendere decisioni importanti. Inoltre sappi che un angelo custode veglia su di te e ti protegge da ogni male. Sagittario. Se ci sono cose nella tua vita che non ti rendono più felice, è tempo di lasciarle andare. Non aver paura di cambiare, di percorrere nuove strade e di liberarti da tutto ciò che ti ostacola. Il cambiamento può essere difficile, ma è necessario per crescere ed evolversi. Abbi fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Capricorno. Stai rivalutando te stesso oggi più che mai. Questo è un atto di grande coraggio e di forza interiore. Non aver paura di mostrarti vulnerabile e di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Ricorda che meriti di essere amato e di essere felice e preparati a ricevere i dovuti riconoscimenti per i tuoi sforzi e a goderti finalmente dei momenti di relax. Acquario. La giornata odierna ti offre una grande opportunità per superare gli ostacoli che ti spaventano. Avrai la possibilità di capire chiaramente i tuoi fardelli e le tue preoccupazioni, di vedere attraverso le tue barriere mentali ed emotive e di riconoscere i tuoi meccanismi proiettivi. Questo processo di introspezione ti porterà a un nuovo livello di consapevolezza e di libertà interiore. Pesci. Stai attraversando un periodo di grande trasformazione personale. Stai lasciando andare le parti di te che non ti servono più e stai superando i tuoi limiti. Non aver paura di affrontare i tuoi demoni interiori e di liberarti dai pesi del passato. È un'azione necessaria per tornare ad essere felici e per ripartire più forti di prima. Si conclude qui anche questa puntata di Oroscopo Sicilia. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. di Oroscopo Sicilia. Sì. Sì. Sì.